buongiorno a tutti a cattoni benvenuti in un altro nuovo video sempre a forte ventura oggi dobbiamo andare a puerto del rosario precisamente qua ed è famosa per alcune sculture di artisti internazionali e nazionali cerchiamo anche qualcosa da mangiare perché abbiamo fame siamo affammati ora andiamo e come al solito cerchiamo di divertirci all I need is someone 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 all I need you oh my god Grazie a tutti Conso appena fatto il bagno Anzi, naga appena fatto il bagno A me si piede a mollo Cosa ci puoi dire? E' parecchio freddo Ora si mangia finalmente Andiamo alla ricerca di un ristorante buono Grazie a tutti Si mangia Adesso assaggiamo il liquore tipico Delle isole canarie Il rummiel Cin cin Buono? Bene accanto abbiamo appena finito di mangiare Se siete in vacanza appunto a Ferti e Ventura Vi trovate a Ferti e Rosario Vi consiglio di passare dal Bounty Il proprietario italiano quindi magari vi offre anche il liquore tipico Della zona Vi lascio il link in descrizione Un po' di musica reggaeton E trasgressione E adesso andiamo a prenderci un paracetamone Poi andiamo nella vecchia capitale Che sarebbe? Betancuria Betancuria Una bella vista Da 600 metri Ora si riparte per Betancuria Vamos E adesso andiamo a prenderci un paracetamone 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 Eccoci qui a Catoni, come potete vedere ci troviamo a Betancuria, alle mie spalle abbiamo la Villa Santa Maria che è una villa che è stata fondata nel 1404 dai coloni spagnoli purtroppo ci aspettavamo qualcosina in più da questo paese ma è veramente piccolo infatti Conso è già andata in macchina e adesso probabilmente anch'io andrò in macchina perché non c'è molto da filmare vorrei fare anche un timelapse ma non vale la pena e quindi adesso ritorniamo a Corraeglio e andiamo ecco cosa guarda questa ragazza censuriamo censuriamo tutto adesso mamma non ci credo scusate comunque ragazzi il nostro video è finito domani nuove avventure ma le vedete nel prossimo episodio e vi lascio qualche anticipazione nel mentre ciao